Musica Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga A parte gli scherzi benvenuti nella parte finale del gioco Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'arrivo del castello di Bowser qui a Fagiolandia E ora è nostro compito fermarlo Fermarlo là perché adesso c'è la strega guignarda dentro Bowser Quindi in questo momento Minchia 200G Cosa siamo? Che mostri siamo? Madonna mia Parentesi Ho fatto un attimo di farming Cosa che solitamente non faccio Ma è perché volevo avere un po' più di funghi E infatti 99 di ogni tipo A parte i funghi max lasciamo perdere Le nostre statistiche 206 di difesa e 189 di attacco 186 e 211 di difesa Madonna mia Siamo dei cazzo di carri armati ora Allora Ogni stanza che vedremo Oh giusto i bu adesso ci sono Ogni stanza che vedremo Avrà Un boss differente Giù aspetta fammi vedere Nulla Fammi vedere un attimo che cos'ho Di strumenti L'anello bonus e la gran forza Ok Un attimo Ricambiamolo intanto col Game Boy Horror Oh ma aspetta la gran forza si è applicato su entrambi La gran forza si era attivata su entrambi Ecco perché abbiamo fatto 200 126 infatti Mancato Vabbè 126 comunque Non si butta certo via Casuale Che penso che in italiano fosse casual No casual È scritto effettivamente Ah gravità casuale Vabbè Ah certo abbiamo sconfitto il fantasma Ci può stare come premio Allora Ah ok Volevo solo vedere se ce la facevo Aspetta Ok Ah Ok Qua è tutto veramente da fare A saltelli Ok Aspetta tu Niente Dai Eh niente Questa parte qua è un attimo Non ti dico difficile però Fastidiosa Aspetta Tuono dai Ecco fatto Sistemati Questa parte qua è un filo fastidiosa Perché dobbiamo saltare da blocco a blocco E la distanza è Precisa Parte qua che Per qualche motivo Non ha saltato 3 2 1 Ah Perché non salti Aspetta Fammi un attimo Fammelo un attimo tentare 2 secondi Non ci ho mai provato effettivamente Ho sbagliato Troppo avanti Questa volta Fammi vedere Ok basta Dio mio Non c'è Fino ad oggi Non ci avevo Mai pensato Questa soluzione Ho fatto sempre La strada più difficile Possibile Ovvero saltare da pezzo a pezzo Wow Mi sento talmente un genio ora Allora Prima Mini boss fight Stanza di Iggy 7000 7100 Non male Allora Iggy Bowser Oh no Lui Che palle Lui è quello che ti confonde Che palle Che ora tutti i comandi Sono invertiti Allora Di Qua Giù Ecco Fatto Dov'è la fiammella Non lo so Ma Siamo riusciti a passare Occhi tocchi Ci mettiamo un colpo Per distruggerlo No Ok Allora A parte che ho sbagliato io Però Uno Due Due sequenze di colpi E Mario È salito di livello Ottimo Non male Allora Cosa aumentiamo L'abbiamo aumentato La vita L'ultima volta Va bene 4 ci sto 4 ci sto Finché non è uno Guarda Mi va bene tutto Anche se il due Ultimamente Eh Eh Vita Tre Va bene Due Va bene Va bene Va bene Va bene Non mi lamento Eh Sono morto Allora Tutta questa sequenza La facciamo di fila Ovvero Faccio tutti i boss Ma taglio gli episodi Tipo Adesso Dopo questo Dopo questo